Sono partiti, concentriamoci perché sono partiti i baghi di battaglia. Non sono tratti, ma finché altro vanno molto forti, potrebbe essere ancora più le Compras al comando, adesso devo vedere, attenzione perché è quello che c'è, fermo Don Gardner con l'Alfa Racing, la sinquadratura purtroppo non ci vedo dei numeri, ma secondo me dovrebbe essere proprio lui, Compras al comando, adesso non capiremo, è bellissimo il primo giro. Compras al comando, adesso tutti lo sanno, quindi saranno attenti per superare quel tratto di percorso, perché non riescono larghi dal tornantino. Non riescono a passare solo sulla terra, potremmo rischiare di scivolare sull'asfalto, tra la fattiglia e la metà, ma chiaramente scivolò. Vedete che sono parti in asfalto molto veloci, veramente dei prototipi, delle prestazioni straordinarie, devo vedere anche i tempi. Strauss-F ありがとう Strauss-Kodend Eccolo se si accesso da Eclare con BraZ a un comando, mentre pure alla battaglia alle sue spalle. con i monopoli che cercano di trovare la traiettora migliore in questo il percorso 108 la Sast House e il comando c'è il comando la Sast House e 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 quindi poi ci dedicheremo a questo in grado di maniera generati 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 ma davanti a tutti ancora percorrere un giro e poi che arrivano davanti a tutti ancora una volta a Comras adesso si sento l'olopatia e poi la vittoria e poi la vittoria e poi la vittoria e poi la vittoria e poi la vittoria